Progettare una piazza Progettare una piazza oggi è sicuramente un tema dovuto alle città italiane ed europee in quanto gli spazi irrisolti costituiscono un problema etico, civico e anche urbano. La situazione pregressa è una situazione che si è stratificata dagli anni venti con la costruzione dello stabilimento termale sino ad oggi e un lento degrado ha coinvolto questo spazio che non ha mai avuto un pensiero né urbanistico né architettonico. Progetto ha visto un intervento su una superficie che è antistante allo stabilimento delle terme perdieri e si estende progressivamente lungo il fianco dell'edificio stesso. Protagonisti di questo intervento al fine di garantire una qualità a questi spazi aperti di socializzazione, di incontro e di dialogo il verde, l'acqua, le superfici lapide, un materiale che dura nel tempo e anche all'interno di questi elementi al fine di garantire un'armonia di questi spazi l'arte. Lavorare in una piazza per un'opera pubblica è molto diverso rispetto al lavoro che un artista fa nel proprio studio. Naturalmente bisogna tener conto del contesto in cui viene collocata l'opera, bisogna tener conto della storia, dei materiali, le proporzioni, quindi è un lavoro molto complesso. Io isolerei il bronzo là all'inizio proprio, il totem e poi parte il filo basso con uno sviluppo tutto orizzontale. In questo caso io ho lavorato come faccio da diversi anni partendo da un poetario e quindi ho realizzato un'opera con i caratteri tipografici di legno. Alla prossima Alla prossima I caratteri tipografici di legno sono diventati la base per la fusione di questa stella in bronzo. Alla prossima 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 Alla prossima